4,2 miliardi di euro che serviranno a premiare 45 progetti. Si parla dei fondi europei per il periodo che va dal 2014 al 2020, la cui programmazione è stata approvata dalla regione Lazio. Dei 4,2 miliardi a disposizione, 2,6 saranno stanziati dall'Unione Europea, mentre il restante 1,5 saranno fondi nazionali e regionali. Per la provincia di Frosinone ci ha pensato un'industria a spiegare come potranno essere utilizzate queste risorse per cercare di dare nuova linfa al sistema imprenditoriale della regione Lazio. Saranno come noto sostanzialmente gli unici fondi disponibili nei prossimi anni alla luce delle criticità del bilancio pubblico a tutti i livelli e quindi è importantissimo che insieme alla regione il sistema delle imprese sia attivi per fare in modo che, contrariamente a come avveniva negli anni scorsi, questi fondi vengano utilizzati al 100%. La programmazione approvata dalla regione è frutto di un lavoro di confronto tra tutte le realtà coinvolte. Il documento è frutto di una serie di osservazioni che sono venute da tutti gli operatori che sono chiamati a attuare poi le direttrici che vengono lì indicate. È chiaro che adesso, secondo la normativa comunitaria, questo documento verrà sottoposto agli uffici competenti di Bruxelles e dell'Unione Europea e che daranno delle indicazioni su come aggiustarlo. Queste le priorità su cui lavorerà un'industria assistendo le sue imprese associate. Tre filoni fondamentali che sono quelli della reindustrializzazione dell'asse Orte Cassino come un'industria, l'economia del mare in linea con quanto previsto anche dalla programmazione regionale, nonché progetti legati allo sviluppo del turismo. Il settore principe nel quale confluiranno i fondi sarà soprattutto quello della ricerca. È proprio su questo tema che verterà la maggior parte dei finanziamenti in applicazione di un concetto innovativo che è quello della concentrazione delle risorse. È chiaro che in un momento del genere risulta fondamentale realizzare progetti di grande respiro.